Allora il giorno di Italia e Inghilterra facciamo un mashup e scegliamo la formazione migliore tra i giocatori attuali delle due squadre Partiamo dal portiere, direi che scelgo Donnarumma in porta, Arnold a destra, James a sinistra e centrali Bastoni e Deer Centrocampo, Giorginio, Verratti e poi sono indeciso tra Barella e Manzo, chi scelgo? Io ragazzi scelgo Barella e davanti tutta la vita, Harry Kane, Sterling e Foden Voi fatemi sapere